Forse la so, forse la so, forse la soia finse, e posa il fi, e non è po', e posa il fi, hai capito? L'onore di dover, pro i nostri petti, ha noto l'abisso, assi, Renato, rivedrà l'Inghilterra, e la sua sposa lo seguirà, hai capito? Con la bocca larga, forse la soia finse, e posa il fi, e posa il fi, non avrai paura di non pronunciare, se me lo fai sul fiato e legato, E posa il fi, e posa il fi, e ador, l'onore di dover nei nostri petti, ha rotto l'abisso, l'abisso, e basta questo? Ma non abbassare la testa, ha rotto l'abisso, perché se tu fai, mi abbassare la testa, mi chiudi, mi fai, è come un tubo, mi dai una strozzatura in avanti, a rotto l'abisso, direi un immaginario tubo, di stufa, all'interno è dritto, e devi far sì che questo tubo sia dritto all'interno, questo virtuale tubo, se faccio così, e mi dai una strozzatura in avanti, e capisci, ecco perché devi stare in grasse e cose che devo tenere molto attento, Forse la soglia attinse, e posa il fi, e ador, l'onore di dover, fra i nostri petti, ha rotto l'abisso, Assin regnato, rivedrà l'Inghilterra, e la sua spom, 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 spom. Dio è caverne, i vostri petti ha rotto l'abisso. Meglio che dice bene. Si, 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 re nato rivedrà l'Inghilterra e la sua sposa lo seguirà. Penso un addio, l'immenso ci hanno e separi, l'immenso ci hanno e separi, l'immenso ci hanno e separi e tasso il cuore, guardami la bocca, E tazza il cuore E tazza il cuore Cuore Sì, è abbastanza bene E si, e dove sono? E si, e dove sono? No, 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 no Forse la soglia tinse e posa il fin L'amore e il dover fra i nostri petti Ha rotto l'abisso Ma sì, relato Rivedrà l'Inghilterra E la sua sposa la seguirà Senza un addio L'immenso ce andesse pari E tazza il cuore E tazza il cuore E si, e si tu anco A lui se la vorrà da l'inizio Porse la soglia tinse E la sua sposa il fin E la sua sposa il fin Vieni a me in tasca Però adesso vieni in tasca L'odore di il dover Perché vuole che la vieni L'odore di il dover Vieni a me in tasca 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 Il menso c'è anni e se balì E tazzo al cuore E tazzo al cuore Ha fatto una casca di qua Esito ancora Esito ancora Ocela Non l'ho degi Non l'ho degi Non l'ho degi Non l'ho degi Ha segnato Ha segnato Ha l'ho insegnato Dopo alto. Dopo alto. Dopo alto. Ma che è più alto? No. Dopo alto. Perché ho spostato? E non so, perché tu senti la mia voce e ti darai più. Te lo detto non aiuta. Perché se senti la cosa, automaticamente tendi a spingere le calzote del dito. E ciò sarebbe nuota. E l'ho segnato. E l'ho segnato. Il sacrificio mio. Il sacrificio mio. Ok. Ma se me forza perderti per sempre a luce mia. Ma se me forza perderti. perciò me lo sento, perciò va in modo particolare al sentato, ma se me for sa perderti, ma se me for sa perderti, come si sa bene la F, me for sa perderti, perché poi la F è una consonante soffiata, ma se me for sa perderti, per se me for sa perderti, a te verrà il mio palpito, da te verrà il mio palpito, sotto quel cetusia, sotto quel cetusia, Chiusa la mia memoria, chiusa la mia memoria, nell'intimo del car, Chiusa l'intimo del car, chiusa nell'intimo del car, Lo spirito massale, lo spirito massale, lo spirito massale, lo spirito, c'è sempre un cordone americano, che deve essere, lo spirito massale, lo spirito lo spirito lo spirito lo spirito lo spirito lo spirito massale immagina che c'è sempre un legamento che c'è legato alla nota inferiore lirito sarebbe non dico prendere la cucchiaia lirito massale e vai sulla nota ma immagina non dico ma legato questo cordone umbilicale che si deve sempre essere ancora lo spirito massale ecco lo spirito e la o sulla posizione della i lo spirito guardami lo spirito massale lo spirito massale lo spirito massale che rivederti annunzia che rivederti annunzia che rivederti annunzia che rivederti annunzia annunzia quasi un desio fatale quasi un desio fatale come se fosse come se fosse l'ultima come se fosse l'ultima ora del nostro amor ora del nostro ora del nostro amor ora siamo giusti come se fosse come se fosse vedi che sei appinto che ti fai una tastiera elettronica nel cervello dov'è? eh sì come se fosse come se fosse l'ultima 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 ora ora del nostro nostro ora del nostro amore attenzione che si mette 4 e 40 1 invece 4 e 40 ora del nostro amore ora del nostro amore del nostro amore del nostro amore oh quale presa Gio mas massale a quale preso Gio massale o come se fosse in ultima com come se fosse l'ultima quale Devi pronunciare di più AM, AMOR, sennò diventa AU. Del nostro amore, del nostro amore, se fosse l'ultimo, del nostro amore, del nostro amore, del nostro amore. Del nostro amore, del nostro amore. Questo è il nostro amore. Hai capito? Sì, sì. Questa è una scalata. Eh no, è un'aria completa, capisci? Anche questa. Non mi capace di ripartire. Ma io adesso ho fatto una carriata per le altre amore. No, no, ma io... Beh, e dopo ha l'altra. Pensi che io non le faccio mai fatte? Non è perché dicevano che non è nel mio repertorio. Invece io penso che si possa fare con la tecnica. Tu puoi fare con la tecnica. Io ho sempre creduto che sbagliavano, infatti ne ho la conferma, penso. Guarda, io ti ho detto Arlesiana e anche Nemorino, ma tu puoi fare benissimo il cavadadossi, puoi fare benissimo anche... Vedi? Vedi? Quindi è quello che io pensavo che l'ha confermato. Adesso non me lo devo studiare, però... Sì, ma è quella tecnica. E credemi, in questa proiezione anche la voce si sviluppa. Ma si sviluppa senza perdere la cosa, anzi mi guadagni, no? Cioè non è che tu perderai, tu avrai il tuo re naturale, se l'avrai, capisci? Sì, ma avrai la sicurezza e soprattutto tutte le note saranno a posto, non ci saranno... Sì, che è la cosa fondamentale. Hai capito? Dopo questo è il suo terreno sicuro, no? È un pazzo, è come un mosaico. Ogni cosa deve andare al suo posto. Ma c'è una logica. Certo, assolutamente. È una logica matematica, almeno per imparare la logica. Poi la matematica la devi lasciare a perdere. Però, almeno quando impari, quando studi questa cosa devi sentire ta, ta, ta. Infatti quando lo faccio bene, me lo sento bene. Infatti, vedi, ecco. Che ha il solito. Cos'è? Un'ora in quanto che stiamo passando di qua e stiamo... Fa giusta tecnica, uno non si fa male. Eh, esatto. Non è che... Non lo so. Ma questo lo vado a dire. Aspetta che scrivo... Quando posso scrivere? Era quello che mi capitava quando... Era quello che mi capitava in conservatorio. Che dovevo dire no. Però ci sono malato, non mi dico. Facevo così, eh. Perché... A scuola era così e così. No, no. La voce è proprio molto bella e... Mi piace bene. Grazie. E questo è uno... E questo è uno... E questo è uno...